Buon salve a tutti ragazzi, oggi giocheremo con mio fratello e Samuele a Brawl Stars. Iniziamo, facciamo un po' di arraffagemme. Qualcuno mi può cambiare personaggio? Qualcuno mi può cambiare personaggio? E' un po' che sei il mago? Allora, Ettore tu ti occuperai di prendere le gemme, io e Samuele di combattere. No, io e di combattere. No, Gloria ti prende e ti prende e ti combattere. Gloria, devo difendere Ettore. Allora, io difenderò Ettore e Samuele di combattere e mio fratello prenderà le gemme. Allora, ora il ruolo da difensare lo faccio io. Ma sono morto anch'io Ettore, attento! Aiuto, voglio stare qua, vedo dei gemme! Dobbiamo uccidere questi due. Sono morto, non vedo tutte le mie gemme! Anch'io. Chi è sta qua? Ehm, ma chi c'era? Maggi, quelli che hanno le pozioni. Samuele, scusa! Oh mio Dio! Dai! Dai! Dai, non troppavi le gemme, no? Ettore, prendi tutte le gemme che trovi per terra! 12 contro 0, ma dai! Perché se uno si divide, l'altro pure e l'altro pure! Non ci riusciamo! Sì! Ora mi metto questo guandardino! Mettiamo pronto, va? Ti vediamo in partita! Let's go! Ok! Cosa sta facendo il personaggio di Samuele? Dai, Samuele, metti pronto! Dai, Samuele, metti pronto! Dai, aspetta, stoppa il video un momento! Allora stiamo facendo una partita con solo mio fratello! Eccolo, non morire, ok? Eccolo, non morire, ok? Oh, sono morto! Eccoci ragazzi! Dai, dai! Oh mio Dio, aiuto! Dai, non voglio perdere! Non me ne posso occupare di due! Ettore, prendi tutte le gemme! Eccolo! 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 Abbiamo perso! Abbiamo perso! Abbiamo perso! Abbiamo perso! Abbiamo perso! ma dai la squadra rossa mi ha due a tre la squadra rossa la squadra rossa la squadra rossa la squadra rossa Sì! 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 abbiamo perso ma dai ragazzi per oggi è tutto noi ci fermiamo così un grosso bacione da me e mio fratello e vi saluto ciao